Non ho pagato l'affitto, no, 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 no. Non ho pagato l'iciap, l'IVA, non ho pagato. Non pago, non pago, non pago, no, 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 non c'è un alimento, no. Diplomato? Sì, cinque anni in uno. Laureato? Quattro anni in uno. Sposato? Sì, sette anni in uno. Separato? No, adesso ho fretta. La casa? Sì, ho fatto il rogito senza il notaio, era fuori sì. Le moto? Sì, quarant'anni in uno. Già pagato? Sì, sì, è posto. C'ho la serena. Ah, non è male? Com'è? Fuma molto, vive in una grotta. Però mi ha dato solo il numero di fax. La macchina? Sì, ho fretta. L'antifurto? Chi ladra non ho fretta, questo mette l'antifurto. Ah, tuo figlio? Mio figlio lo porta in piscina mentre fa nuoto gioca a tennis. Ah, istruttore unico, quindi la pizza? La pizza sì, ma già tagliata. La tagliata a rosmarino? Sì, al massimo, già tagliata. Ecco. Aspetta, aspetta, aspetta un attimo, aspetta un attimo. Pronto? Mamma? No, stiamo quasi finendo. Ma com'è che non sei venuta? Dottor House alla TV, ma no, ma no, adesso si che ci arpao. Potevi venire, no? No, 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 nessuno ri... Non sente... Hai mica quel bel paio di pantaloni belloni, scozzisoni con gli scrittori, quattro di due rossoni belloni, marroni, quelli marroni, eh? Senti? Ecco, no, fai una cosa, mamma, perché non sento niente. Mi chiami sul telefono? No, questo è il contapassi. È il contapassi, mamma, sì? No, 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 non sento niente, guarda che... Ma no, se è fumo, diciamo, naturale, tra noi maestri, insomma, quando ci facciamo questi convegni dove stiamo in silenzio in corpi circondimentali anche per giorni, eh? Mi rubo solo cinque minuti, so io ho cappelli molto lunghi... No, veramente non ho molto tempo, devo andare a Baricella a tagliare un diamante, Comunque, dica pure... Autobus? No, mal di schiena, regammi... Treno? No, scarafaggi...